Incominciamo la prima intervista, ci mettiamo di fronte al mare con queste due protagonisti di giornata, io partirei dalla vincitrice assoluta e chiedo anche al pubblico di Pietraligore di fare un applauso per la vincitrice, Olga Cappiello! Facciamo un applauso, dai! Eccola qui, allora Olga, intanto grazie per averci atteso, siamo scesi un po' in ritardo e complimenti per la tua bella prestazione. Vorrei un'analisi tecnica da parte tua di questo tuo bel numero agonistico. Diciamo che è stato un percorso molto impegnativo e tecnico e ho dovuto veramente impegnarmi per dare il meglio di me stessa. Erano sia tecniche le salite che le discese e oggi ero in giornata positiva, infatti sono riuscita a prendere subito la testa della corsa già dalla prima salita e ho mantenuto. Grazie a un mio amico che mi ha aiutato, mi ha ascoltato fino all'arrivo e quindi vorrei ringraziare Andrea Cappelli che è arrivato con me fino all'arrivo. E quindi ti ha fatto un po' da gregario. Senti, non l'ho ancora chiesto agli altri ma l'ho chiesto a te che sei la prima delle donne, il livello organizzativo di questa gara secondo te com'è stato? Te lo chiedo anche perché, intanto è arrivata la terza donna, te lo chiedo perché questa è la prima volta per gli amici di Luan Bikers in questa località. Ma diciamo che le strade erano abbastanza protette anche se come dicevo prima essendo un percorso impegnativo dopo un po' c'erano anche le macchine che abbiamo trovato anche del traffico. Direi che il tanto caldo forse avrei gradito qualche ristoro in più. Bene, è giusta questa analisi con le giuste critiche costruttive da parte di Olga Cappiello. Facciamo ancora un applauso a Olga Cappiello, vincitrice assoluta al settore femminile. Io mi sposto, vado da questa altra protagonista che invece è del serato per il team Cinelli-Glassengo. Mi sposto io dall'altra parte a questo punto se lei viene qui. E sto parlando della seconda classificata assoluta a cui va l'applauso. E lei è Raffaella Palombo. Facciamo un applauso un po' più forte, dai siamo in pochi ma ci facciamo sentire. Allora Raffaella, intanto grazie per essere arrivata anche tu qui a sopportarti questa intervista. Le tue impressioni a caldo dopo questa fatica di 97 chilometri, credo è caldissimo veramente. Sì, veramente molto caldo, sono perfettamente d'accordo con Olga. È una bellissima gara, però molto tecnica, sia in salita sia in discesa. Io oggi non sono riuscita a restarla attaccata in partenza, ho faticato un po' all'inizio. Poi sono riuscita a riprendermi un po' verso la fine, però è stata dura. È stata veramente dura e se ci fosse stato un ristoro in più forse sarebbe stato meglio con una giornata simile. Senti, non c'è stata possibilità per tenere il passo di Olga da parte tua oppure la giornata ha visto che proprio i valori erano sul campo? Erano quelli che hanno evidenziato una alla fine netta superiorità perché un minuto e 29 secondi sono frutto di una netta superiorità da parte di Olga che è stata oggi superiore a te. No, no, infatti è andata via subito, mi sono staccata subito sulla prima salita, la vedevo, però non sono riuscita a rimanere attaccata e niente, quindi ho fatto la corsa al gancio all'inseguimento. Prossimi appuntamenti per Raffaella Palombo? Prossimo anno! Allora, in bocca al lupo, buon riposo durante l'inverno, Raffaella Palombo! Allora a questo punto io vorrei chiamare qui, di fronte alla spiace e al mare di Pietraligore, anche la terza classificata che è Monica Cuell. Monica, intanto ben arrivata, complimenti per la tua prestazione, una tua analisi tecnica della tua prestazione, del percorso e dell'organizzazione di questa gara. La gara è organizzata molto bene, la mia prestazione è buona per essere a un finale di stagione, sono un po' ciaccata, quindi tutto bene. Molto impegnativa, devo dire, sempre ho salito a discesa, è discesa molto tecnica, salite non difficilissime, costanti, 5-6 km ogni volta. Molto bella per essere un fine stagione, devo dire impegnativa, sopra la media. Come da tradizione Ligure, senti, ho chiesto già alle tue avversarie, il proseguo di stagione ci sarà per te oppure chiudi e guardi al 2012? Fine, oggi è l'ultimo, sì. The end? The end, sì sì. Finita, dunque, ancora un applauso, grazie per Monica Cuell. Grazie mille. E a questo punto io vi lascio...